Mi rallegro molto con voi, cari fratelli, perché siete anime veramente desiderose di consacrarsi a Maria, perché non c'è beneficio più grande di quello di dare a Gesù delle anime. Gesù tramite Maria, perché Gesù è venuto per mezzo di Maria e si dona alle anime per mezzo di Maria. Voi l'avete capito ed è davvero una grande e stupenda sapienza. Io vi esorto solo dopo aver sperimentato tanta dolcezza, tanta suavità spirituale e tanta grandezza di benefici erargite alle anime vostre da Maria, la Madre Santissima di Cristo, affinché abbiate anche la carità apostolica di proclamare la grande misericordia di Dio e le sue grandi opere a tutti gli uomini di questa povera terra, che tanto bisogno hanno di Dio. Le anime sono assetate di Dio, sono assetate del suo Cristo e non possono ricevere il Cristo se non tramite Maria. Voi che avete ricevuto la grazia della piena, della cattolica universale, profonda, obiettiva, soprannaturale fede, comunicate questa fede a tutte le anime. Comunicate soprattutto alle anime la gioia di essere devote di Maria, di appartenere a Maria, di rifugiarsi nella dimora del cuore immaculato di Maria. Misericordia sdomini in eterno ma cantabo. Le misericordie del Signore le canterò in eterno. Così, in attesa di cantare la bontà e la misericordia di Dio, che gli c'elargisce per le mani di Sua Madre Santissima per tutta l'eternità, cominciamo fin da questa terra a proclamare le grandi opere di Dio a favore delle anime. Facciamoci veramente araldi di Maria, perché il Signore vuole proprio questa devozione particolare al cuore immacolato della Sua Madre Santissima, in questi tempi di difficoltà, di smarrimento, di tenebre, di caligine, che appesantissono la povera vita umana su questa terra. In questo tempo così difficile, il nostro sicuro rifugio è la stella del mare, stella Maris, il significato del nome di Maria, e bisogna guardare lei, segno sicuro della vita, che conduce in paradiso, che conduce al Signore. Ecco, miei cari, quale gioia! Mi rallegro proprio per voi, perché anch'io, e sarei un ingrato, se non vi riducessi proprio dalla profondità del cuore, ho sperimentato tanti benefici da Maria. Quanti benefici io, povero peccatore? Vedete, c'era proprio da disperare. Se io guardassi la mia povera umanità, il mio peccato, la mia lontananza da Dio, la mia fragilità, c'era veramente da disperare. Ebbene, mi sono rifugiato in Maria, e in Maria ho avuto sempre tutti gli aiuti, in vista proprio di una vita più cristiana, più adeguata alla dignità e alle grave responsabilità del sacerdozio, in vista di una vita consacrata a Dio nell'ordine di San Domenico. Quanti benefici ho ricevuto da Maria? Perciò sarei proprio un ingrato, se non vi dicessi quanto bene, quanto bene fa la consacrazione di un'anima a Maria. Così, questo bene, anche voi lo state già sperimentando, e quei cari fratelli e sorelle che faranno oggi il loro voto consacratorio al cuore immacolato di Maria. Anche loro sperimenteranno la dolcezza e la sua vita di Maria.